Matteo Salvini, Lega. Presidenti, ministri, colleghi, guardiamo al futuro, raccogliamo l'appello come stiamo facendo da giorni e da settimane, con proposte concrete per rispetto a chi in questo momento è a casa e ha problemi immediati, i problemi di chi è a casa sono di questo fine settimana, quindi al di là delle dichiarazioni di intenti, delle dotte citazioni storiche, umanistiche, la gente vuole capire se la cassa integrazione gli arriva questo mese, se gli arriva fra due mesi, perché le bollette non aspettano, i mutui non aspettano, gli affitti non aspettano, medici, infermieri e sanitari, noi li sentiamo come tutti voi quotidianamente, mettiamo le mani avanti, non bastano applausi e complimenti o medagliette, occorre intervenire pesantemente sugli stipendi di chi sta rischiando la vita in prima linea. Il Governo ha messo un provvedimento che prevede che per chi lavorerà alle Olimpiadi Milano-Cortina lo stipendio sia tassato solo sul 30% del montante, quindi stipendio esentasse per il restante 70%. Noi chiediamo che il personale medico e sanitario e infermieristico ci sia lo stesso trattamento economico, il 70% dei loro stipendi dovrà essere esentasse per i prossimi anni, perché di pacche sulle spalle ne hanno piene le tasche e le corsie di ospedali. L'immediato dal Governo si chiedono risposte immediate oggi. Signor Presidente, mancano mascherine, mancano milioni di mascherine nelle case di riposo, nelle corsie di ospedali, nelle case, perché l'emergenza fra poche settimane si trasferirà dagli ospedali alle case. Quando verranno dimessi i malati occorreranno le bombole d'ossigeno a casa, mancano bombole d'ossigeno. C'è il mercato nero delle bombole d'ossigeno. Gli italiani sono a casa e si sacrificano, ma pretendono di essere protetti e rispettati. Mancano i saturimetri per valutare la quantità di ossigeno nel sangue. Arrivano a 200 euro di quotazione. Io, cittadino italiano, dal Governo mi aspetto queste risposte. Ma adesso, le tute, i camici e non è una polemica di parti. Io leggevo che il Governatore della campagna De Luca, del PD, dice rischiamo il dramma, da Roma non arriva nulla. Il Governatore del PD della Puglia dice ci mancano le mascherine, da Roma non arriva nulla. Il Governatore del PD dell'Emilia Romagna ci dice ho dovuto muovermi io, perché a Roma perdevano tempo. Quindi non è un problema di destra e sinistra, perché il virus non colpisce quelli di destra o quelli di sinistra, quelli belli o quelli brutti. Colpisce tutti. Siamo arrivati a 7.503 morti. Io vorrei che questo numero non si moltiplicasse, quindi rilancio l'appello dei sindaci. Io ho sentito ieri i sindaci di alcuni comuni bergamaschi che non hanno avuto un colpo di telefono da nessuno. A Grumello i morti nel marzo scorso erano stati cinque. I morti quest'anno sono 35 e così in tanti altri comuni della frontiera bresciana e bergamasca. E permettetemi di dire che chi si permette di criticare la qualità della sanità offerta dai medici lombardi si dovrebbe vergognare. Prima di mettere in discussione la qualità del servizio offerto ai cittadini per polemica politica si dovrebbe vergognare. 700 letti di terapia intensiva in più sono stati realizzati in Lombardia grazie all'eroismo del personale sanitario, non a qualcuno che arriva da altri paesi. Questi sono i numeri. E senza spirito polemico però, alla fine del tutto, dovremmo chiedere conto a chi ha fatto cominciare tutto e ha perso settimane colpevolmente nel denunciare l'epidemia. Se il governo cinese sapeva, non ha denunciato e non ha protetto, ha commesso un crimine ai danni dell'umanità. E adesso non si può far passare per Salvatore colui che ha contagiato il mondo. Questo è inaccettabile. I aiuti sono benvenuti da parte di tutti. Ma è vero che si sono perse tre settimane nella denuncia all'organizzazione della sanità del rischio epidemia? È vero? Sì o no? Non ci sono terze vie. Se sì e sì, se no e no. Quindi emergenza sanitaria che viene affrontata con tutti i mezzi necessari. Io prego, avete nominato un commissario, di dare risposte. Però oggi, fra una settimana e tardi, perché quelle mascherine possono salvare la vita, quelle tute possono salvare la vita. La Regione Sardegna ha chiesto 400 ventilatori polmonari. Ad oggi arrivati zero. La Regione Veneto ha chiesto un milione di tute protettive. A oggi arrivate mille. Quindi vi chiediamo di fare bene e fare in fretta. Ognuno deve fare il suo. I medici stanno facendo il loro, i poliziotti stanno facendo il loro, i sindaci e i governatori stanno facendo il loro. Ci aspettiamo dallo Stato e dal Governo protezione della salute. E poi non passare dall'emergenza sanitaria all'emergenza sociale ed economica. Mi è arrivato poco fa un foglio. Un foglio. Come la Svizzera sta affrontando l'emergenza economica alle porte? Con un foglio. Non con 13 decreti, 300 divieti e 600 pagine da studiare che neanche un consulente del lavoro riesce a capire. La Confederazione del Vetica manda ai suoi imprenditori un foglio perché garantisce adesso immediatamente soldi liquidi in banca, il 10% del fatturato dell'anno scorso con un tetto fino a 500 mila Euro e lo farà per 5 anni con un foglio da compilare adesso. Questo è il modello che dobbiamo seguire. Vi chiediamo coraggio, visione, lungimiranza. Il Regno Unito garantisce l'80% dello stipendio ai suoi lavoratori, garanzia dello Stato. Gli Stati Uniti del deprecato Trump garantiscono fino a 2 mila dollari a nucleo familiare. Subito. Liquidità. Io temo che con i decreti che stiamo esaminando, se questi soldi arriveranno fra un mese, due mesi e tre mesi, la gente esce di casa, ma non per ringraziare. Perché se uno non ha i soldi per andare a fare la spesa, magari un genitore non mangia lui, ma se non riesce a dar da mangiare a suo figlio, il problema c'è. Noi cerchiamo di proporre miglioramenti. Ci pagano per questo l'opposizione e io ringrazio tutto il centrodestra, perché abbiamo dimostrato una compattezza veramente che il Paese ci chiedeva. E stiamo portando proposte. Però, signor Presidente, la collaborazione noi la intendiamo non come un garbato ascolto una volta ogni 15 giorni di quello che lei sta facendo. Se ci vuole collaborativi, lavoriamo insieme. Se ci vuole spettatori, allora ce lo dica. Noi continuiamo a fare proposte, però vorremmo anche che queste proposte fossero ascoltate, perché nei decreti, capisco fretta e furia e le dirette di mezzanotte, ci sono degli evidenti errori. Sugli affitti, ripeto, vita reale, gli emendamenti che la Lega e il centrodestra portano avanti, ci arrivano dai commercianti, dagli artigiani, dalle partite IVA dimenticate. In Italia ci sono 5 milioni di lavoratori autonomi, 5 milioni di commercianti e imprenditori, 14 milioni di lavoratori del settore privato che non hanno nessuna certezza sui tempi. Ci saranno i soldi per la Cassa Integrazione per tutti? Non si sa. Quali sono i tempi di erogazione? Non si sa. I mutui vengono effettivamente sospesi? Qualcuno del Governo ha provato a chiamare una banca per vedere l'odissea che sta dietro la norma a decreto? Non si sa. Gli affitti vengono sospesi per i negozi, ma non per gli uffici, gli studi, magazzini o i capannoni. Per gli affitti del privato non c'è nulla. Per assurdo, chi ci sta guardando adesso da una casa popolare a Milano, a Torino, a Roma, a Napoli, deve pagare tutto a fine mese, perché nel decreto non c'è nulla per l'affitto del privato. Io ringrazio la Regione Lombardia che ci ha messo 30 milioni di euro per aiutare gli inquilini delle case popolari che vi evidentemente stando a casa da un mese non hanno i quattrini per pagare l'affitto. L'agricoltura, la pesca stanno soffrendo in maniera pesantissima e non hanno certezze. Noi chiediamo, è troppo chiedere la sospensione degli addempimenti fiscali almeno per tutto il 2020. Io lo dico agli amici del PD, avete messo nel decreto la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio, ma qualcuno pensa seriamente che il primo giugno milioni di lavoratori e imprenditori italiani possano tornare a pagare le tasse. Diamo certezze a questo Paese, non miracoli, certezze. La sospensione degli studi di settore, gli ISA per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, è chiaro che non riusciranno a starci dietro. I soldi per i sindaci. Io ho sentito un sindaco Torbole Casaglia, uno dei tanti piccoli comuni italiani da nord a sud, i cui sindaci sono eroi. Per fare un funerale al loro cittadino hanno dovuto fare la colletta, perché i comuni non hanno più soldi. Mettiamo dei soldi a disposizione dei sindaci nel decreto per evitare che i comuni saltino per aria e non si possa più raccoglierli immondizia, perché adesso rischiamo anche l'emergenza dei rifiuti, perché il problema è che grazie a tutti i no detti in passato, fra un po' si rischia l'emergenza rifiuti, perché fino a quando si potevano portare i rifiuti italiani, secondo me in maniera insensata, in altri Paesi del mondo non c'era emergenza. Adesso che non ci prendono più i rifiuti, grazie ai signori del no non vogliamo gli impianti in Italia, rischiamo di venire sommersi dai rifiuti. E quindi anche di questo bisognerebbe parlare nel decreto. Un pensiero anche ai tanti sacerdoti che si stanno immolando nella Bergamasca, in Emilia Romagna, in Toscana e stanno andando oltre, ed è la Chiesa di frontiera, è la Chiesa di paese, la Chiesa di missione, quella che preferisce non stare chiusa in un palazzo, ma stare in mezzo alla sua gente e sono decine i sacerdoti morti. E a loro penso che debba andare l'applauso di tutta quest'Aula del Senato, perché stanno facendo un'opera di missione straordinaria al fianco dei medici, perché curano le anime come altri curano i corpi. Poi sono in chiusura, due riflessioni. Mi si permetta di ringraziare il Presidente Draghi per le sue parole, perché è caduto il mito del non si può fare debito. Oggi il Presidente Draghi ce l'ha detto, si può fare debito, ma non per assistenza, per rilanciare il reddito. Quindi benvenuto Presidente Draghi, ci serve l'aiuto di tutti, ci serve anche il suo aiuto. E quindi io sono contento di questa intervista e sono contento di quello che potrà nascere. Da questa intervista la lezione di oggi per i nostri figli è che quello che è accaduto fino a due mesi fa, tagli, 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 chiudete l'ospedale per i vincoli deficit, il 3% per le regole europee, l'austerità, chiudete le scuole, chiudete le caserme. Sono state scelte criminali. Quella di chiudere tutto, di togliere il diritto alla vita e alla salute nel nome di parametri decisi a Bruxelles, permettetemi di dire che in queste settimane l'Italia sta brillando, gli italiani stanno brillando, i nostri cittadini al 99% stanno dando prova di eccezionale rispetto a Bruxelles. Probabilmente qualcuno non ha ancora capito che aria tira. Se il governo tedesco parla ancora di MES senza condizioni, che prevede che i soldi vengano dati all'Italia ma debbano essere rimborsati in futuro a debito dei nostri figli, magari con una bella patrimoniale, ebbene a Berlino e a Bruxelles non hanno capito niente. ritroviamo l'orgoglio di essere italiani, il più bel paese nel mondo. Grazie e spero che questo orgoglio sia di tutti, sia di tutti e spero che nessuno per portare a casa due spiccioli dall'Europa oggi ipotechi il lavoro, il futuro, la speranza e il risparmio dei nostri figli. Noi ci siamo non come spettatori, perché gli italiani ci chiedono questo, ma come protagonisti. Se l'aiuto è richiesto, noi già ci siamo e ancor più ci saremo. Non fate da soli, vi chiedo solo questo, non fate da soli e Presidente ogni tanto, come facciamo anche dalle nostre parti, ammettere qualche errore fatto non sarebbe segno di debolezza, ma sarebbe segno di forza, altrimenti non staremmo commentando 7.503 italiani morti a cui va il nostro pensiero. Grazie e buon lavoro a tutti. Non vogliamo essere spettatori, ma protagonisti. Il 70% degli stipendi di chi è in prima linea si è esente da tasse e se il governo cinese sapeva e non ha denunciato, ha commesso un crimine ai danni dell'umanità. Le parole di Matteo Salvini. Le ha chiesto di parlare la senatrice Bernini.